Easy go Ishiki, vuoi sentire una storia? Si No, no, no. No, no, no. Dove essere il tempio che vedevo nel fiume. No, no, no. No, no, no. Non ho abbastanza spazio. Devo essere arrivata al momento giusto. Sembra che i cultisti siano appena andati via. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. No, 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 no. Dove essere qui che compiono i riti in onore del sole. Quattro specchi, ciascuno con un freggio diverso. Sono numerati. Questo è il primo specchio. Passerò dal padiglione centrale per raggiungere l'altare. Devo riuscire a far scendere il padiglione centrale. Se cado in acqua non sopravvivrò a lungo. Questo è il secondo specchio. Devo usare il secondo specchio per illuminare questo cristallo. Il secondo specchio per raggiungere il padiglione centrale per raggiungere il padiglione. Il secondo specchio per raggiungere il padiglione centrale per raggiungere il padiglione centrale per raggiungere il padiglione centrale. Il secondo specchio per raggiungere il padiglione centrale per raggiungere il padiglione centrale per raggiungere il padiglione centrale. Oh no! Oh no! Sì, sì. Sì, sì. Sì, ciascuno con un fregio diverso. Sono numerati. Questo è il primo specchio. Forse posso illuminare quella colonna laggiù col primo specchio. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.